Un battume a cielo aperto, un'emergenza igienico-sanitaria, un vero e proprio problema grave, a dir poco, di degrado, di sicurezza sociale, che interessa non solo le numerose famiglie che risiedono nella zona, le attività commerciali viciniori, ma tutta la comunità dell'area urbana di Corigliano. Ci troviamo in via Ludovico Ariosto, per l'appunto nel cuore di Corigliano Scalo, un'arteria che collega sia via Fontanelle e anche via Nazionale, dove appunto esistono numerose abitazioni. Qui alle nostre spalle l'istituto che per anni, davvero per decenni, ha ospitato le scuole elementari, un istituto caro alla memoria collettiva, anche di chi parla, perché qui si sono formate intere generazioni di allievi, davvero un punto di riferimento a livello educativo e formativo. Oggi questo istituto è ridotto in condizioni a dispoco pietose. La vicenda è a tutti nota, l'istituto erodota, appunto le aule che erano ospitate qui, sono state trasferite a causa di gravi problemi strutturali dall'amministrazione comunale nel gennaio del 2021, dunque poco più di un anno fa, in locali più idoni, moderni e funzionali, sempre di Corigliano Scalo. Ad oggi però, nonostante siamo ormai quasi ad aprile del 2022, la scuola continua a versare in queste condizioni, o meglio, quel che resta della scuola. Ci incamminiamo insieme all'interno dell'istituto, perché, e qui è la più grande sorpresa, è possibile accedere ai locali fatiscenti del immobile perché c'è un cancelletto aperto. Qui ci segnalano anche i tanti residenti della zona, è divenuto un bivacco, un luogo dove davvero è frequentato anche da bambini, da ragazzi, e questo causa un problema di ulteriore sicurezza per quello che può accadere, quindi anche per l'ingolumità fisica. Ci introduciamo all'interno dell'immobile con non poche difficoltà e questa è la situazione che si presenta ai nostri occhi. Vegetazione da foresta amazzonica, degrado, rifiuti, dell'istituto comprensivo erodoto resta soltanto l'insegna, poi materiali ingombranti, questi sono alcuni dei resti appunto probabilmente degli arredi scolastici. Tutta l'area è non solo effaticente, è anche accessibile, quindi si crea anche un problema, come dicevamo, di degrado e di sicurezza. E qui non di rado vengono a giocare anche bambini e ragazzi perché è collegata con la villetta appunto di via Telesio. Ci rivolgiamo all'amministrazione comunale. Era il 28 gennaio del 2021 quando l'assessore Novello nel comunicare i nuovi locali che ospitavano appunto le aule qui trasferite dava notizia che il 28 gennaio del 2021 appunto con l'affidamento appunto della gara sarebbero poi appunto partiti i lavori, quindi tutto l'iter come giusto che sia l'insegna della legalità e della trasparenza. L'affidamento dei lavori e poi appunto una riqualificazione dell'area. Non abbiamo notizie. Ci rivolgiamo all'amministrazione comunale non soltanto per riqualificare l'immobile ma anche nelle more per mettere in sicurezza questo che è un luogo, come dicevamo, pubblico. È un appello che proviene dalle famiglie, è un appello che proviene dall'intera comunità perché è davvero non soltanto una vergogna l'immobile come versa in queste situazioni ma è anche, lo dicevamo, una questione di sicurezza, di rischio e di pericolo.